Sì, esprimo il piacere di questa pubblicazione, il piacere e l'orgoglio per aver editato un libro che è un insieme di emozioni e di narrazione, un libro che si concentra su un'esperienza vissuta dall'autrice ed è buono che è un diario, il diario di una donna, di una grande donna che affronta una grave malattia, il cancro il cancro così come si chiama e così come vuole l'autrice che si dica e si denunci e che affronta appunto questa malattia con grande coraggio, con grande forza e che con grande coraggio riesce a pubblicare perché attraverso questo suo diario, questo suo testamento esprime se stessa ed incita alla vita così come abbiamo detto durante la presentazione qui a Cantinelle, il libro di Adelaide Vuono è un inquilino di troppo e un inno alla vita, quindi non un abbandonarsi ad una malattia ma la forza e l'impegno ad affrontarla per riconquistare la vita, Adelaide Vuono attraverso questa sua forza attraverso questo suo coraggio, attraverso le cure che ha affrontato e che affronta ha sconfitto questo terribile male e ha risorto e ha riconquistato la vita questo è un grande insegnamento e la pubblicazione che la nostra casa editrice ha realizzato vuole rappresentare proprio e trasferire questo messaggio che è un messaggio di grande importanza, di grande profondità e un messaggio appunto che incita alla vita Grazie a tutti